Ciao popolo di Lega Nerd, siamo a Lucca Comics & Games, edizione speciale per i 50 anni. In occasione dell'uscita su Infinity, la seconda stagione di Mariottide, e del nuovo film con protagonista Herbert Ballerina, quel bravo ragazzo, abbiamo intervistato sia Maccio che Herbert per voi, un'intervista molto molto strana. Oserei dire all'insegna del non-sense. Se siete curiosi, restate con noi e scoprite cosa ci hanno detto. Allora, faccio già partire, vero? Sì, sì. Pronto? Visto che siamo a Lucca Comics, quindi in un contesto di giochi, fumetti, videogames, ovviamente supereroi, ma Mariottide è un po' un supereroe, un tragico supereroe, diciamo, che ci può anche rappresentare, un supereroe che un po' ci meritiamo, tra virgolette. Supereroe è medio, è un italiano, no, un basso, un supereroe basso che ha come forza la sua grande arma, che è la capacità di perdere, la capacità di non avere nulla. Anche perché c'è una peculiarità proprio fondamentale del supereroe, che è lo stesso vestito. Lo stesso vestito maggiore. Cioè, il costume, lo indossa sempre, anche quando, però, lo indossa anche quando c'è mai che si trasforma. No, lui ce l'ha sempre. Lui è tipo povero, meglio. Tu immagini che ti batte panno e che va a dormire così. E comunque è invincibile perché non riesci a, cioè, non puoi fargli nulla, perché lui non ha niente, quindi, cioè, sconfigge tutti, con la sua umidità. Sì. 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 All'interno dei vostri personaggi riuscireste a inquadrare di punti di forza e di debolezza che per realtà rispecchiano quello che è un po' l'italiano medio, ecco? Ma nel caso di Mariotti no, lui è secondo me un personaggio che non rispecchia l'italiano medio, è un personaggio che è al di sopra, molto al di sopra o al di sotto, cioè lui si fa attraversare, cioè quelli che gli stanno attorno sono gli italiani medi, gente brutta, brutta gente, e lui invece è come se fosse un son, cioè un martire, ma forse Mariotti te diria proprio da martire, è l'anagramma di martire, martire, e quindi, no, lui è al di sopra, lui serve, è la cartina al torna solito della medietà, cioè serve per far capire quanto siamo mediocri noi, quanto siamo mediocri il paese. Quanto riguarda il tuo personaggio invece? Invece Fernandello, come succede spesso in questa era, in questa epoca, si fa tentare dalle sirene del consumismo, dell'essere, del voler ostentare, proprio anche da Crusca, dall'amico che gli dice io c'ho questo, io c'ho quello, e allora anche lui vorrebbe essere ricco e avere tante cose, e invece non ce l'ha, però il padre lo illude dicendogli un sacco di cretinate. Quanto c'è di vostro, se c'è qualcosa di vostro all'interno di Mariotti te e Fernandello? Ma la voce di Mariotti, come ho già detto più forte, è di mia nonna, è ispirata a quella di mia nonna, e poi la mia famiglia ricorda quella di Mariotti, della povertà con cui mi facevano credere di Espo, al contrario, cioè da piccolo mi facevano credere che eravamo poveri, invece Mariotti gli fa credere a Fernandello di essere ricco, quindi forse c'è questo meccanismo di inversione che si è creato dentro di me. No, a me niente con Fernandello, perché lui è brutto e stupido, quindi niente. Maccio ed Herbert, Marcello e Luigi, siete sempre stati insieme, comunque avete una collaborazione piuttosto solida, adesso arriva quel bravo ragazzo, che purtroppo ci ha portato a litigare per tanto tempo, adesso ci siamo iniziati a parlare, che sarà stato? Quattro, tre, quattro d'ora. Tre, quattro d'ora, no ma quello come dicevo prima è uno spinotto, nel senso è sempre comunque sempre prodotta da Shortcut e Lotus, abbiamo provato a fare questa cosa qui. Lo spin-off di cosa? Lo spin-off lo fai quando fai una serie, un personaggio di una serie, perché prendi e lo metti il tuo di cosa? Lo spinotto da... Di se stesso. Di me stesso, cioè tipo... Capito cosa vuoi dire? Cioè che hanno preso questo personaggio che è lui, l'attore, Luigi Luciano, l'hanno prelevato da me, che sono la serie, la main serie, e lo hanno messo in un film. Esatto, esatto. E ce ne saranno delle belle. Quindi se dovessi descrivere il tuo personaggio, il tuo film, è un prelevamento di maccio? Sì, sono io che è rapportato magari diciamo in una storia un po', per quanto riguarda il cinema, una storia un po' più semplice, perché comunque come abbiamo già detto il mondo maccio a diversi, a dei punti cardini, che sono la satira, lo stile, i personaggi, le cose. Invece questo è un film più normale, più devasione, un po' per tutta la famiglia, diciamo. Ha voluto staccarsi da me come da un padre e dimostrare che lui ce la potrà fare anche da solo, ma adesso vedremo. Ha voluto, ha fatto, mi ha fatto uno schermo, un piro mancino. No, mi sono voluto emaciare. Esatto, è emaccipato. Esatto, è emaccipato. Ma vorreste fare un po' i cosplayer? Siamo a Lucca Comics, vi vorreste travestire da qualcuno? Io sì, io sì, però dobbiamo metterci la maschera, perché se no ci travestiamo e poi però rimaniamo in un unico punto, perché ci bracca, no? Un personaggio che vorreste interpretare qui a Lucca, all'interno del mondo di Lucca? Mmm, una bella domanda questa. Batman no perché non mi si riconosce. Mi piacerebbe... L'uomo ratto. L'uomo ratto, l'uomo rogna pure, è bello. L'uomo rogna, lo squalo... lo squalo? No, lo squalo no. Io vorrei fare quello che ha ucciso l'uomo ragno. Che è Max Pezzato? No. Goblin. No, l'uomo ci abbatta. Ah, giusto. Però quello è l'aceto, l'uomo zanzale. E' quello è l'uomo ragno. Io vorrei vestire da... Craxi. Mi piacerebbe da Craxi. Per fare il cosplayer di Craxi. Tu da balanzone stai bene. Balanzone. Un po' ti sbalanzo io. Confessatevi un attimo a Lega Nerd. Siete un po' nerd. Quanto ne capite di Lucca Comics and Games? Io sono un po' nerd perché c'ho varie console. E quando ho tempo gioco... Non c'entrava niente. No, 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 va bene. Io sono nerd per il conto mio. Cioè, conosco i... Sono nerd nel senso che mi piace stare a casa. Sì, lui è nerd. Sta sempre a casa con quel computer davanti. Ma non a vedere, non ai giochi. Gioco al montaggio dei video. Dei miei video. Quindi ho perso un po' l'essere fan di qualcosa. Adesso faccio solo le cose mie. Quindi sono nerd di me stesso. Sei un nerd. Sono un nerd. E prima vedevo, giocavo anche in videogame o comunque... Però c'ho questo rapporto con le cose che faccio che è molto casalingo, molto stare chiuso in camera e informarsi che è un po' un approccio nerd. Voi sapete... Anche con i video porno, secondo me, è un approccio nerd. No? Da nerd. E il nerd comunque è uno che sta a casa. Eh sì. Diciamo che... Che sfrutta... Che ci dà dentro. Ci dà dentro. Sì. Un cinecomic, Maccio ed Herbert. Quando lo possiamo vedere? Però ragazzi, con questi termini qua, di nuova generazione... Un film sui supereroi. Ah! Allora, al radio, allo zoo, stiamo facendo dei supereroi bellissimi, molto particolari. Tipo abbiamo fatto Man-Man. Nell'uomo-uomo. Che è metà uomo e metà uomo. Cioè che è stato morso da un uomo ed è diventato un uomo. Praticamente è un uomo normalissimo. Beh, ti dico la vera. Ti dico la vera. C'è i problemi di ogni giorno. Non volevamo fare un film sui supereroi, però per fare il film sui supereroi ci vogliono parecchi soldi. Perché tu non vuoi fare il supereroe e poi l'effetto speciale fa schifo, capito? Allora ce l'hanno segato subito. In realtà abbiamo un cantiere dei... Più che dei film, dei corti sui supereroi che... Che sono molto belli e che avevamo scritto anche anni fa e che vorremmo fare anche in televisione, sarebbe bello fare. Il problema è quando? Quando, magari dopo domani. Eppure quando saremo vecchi. Sì, vecchio Man. Eh, pure vecchio Man. Questa idea di vecchio Man, che è un supereroe che ha la capacità... è un ragazzo molto timido che ha la capacità di trasformarsi in vecchio perché è stato morso da una dentiera che era bambino. Viene sempre morso... Eh, viene morso da questa dentiera del nonno che si anima, lo morde al collo e poi si trasforma in vecchio. E da vecchio riesce a fare molte più cose... Perché è saggio. Perché ha la saggezza, l'eleganza, anche l'educazione. I sogni pure. I sogni, sì. Porta i fiori alle donne. E' un galantuomo, direi. Va bene. Grazie mille. Rego, rego.